Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca. Un 83enne di Montesilvano è morto in tarda mattinata in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre stava facendo il bagno in mare nel tratto di spiaggia. Antistante lo stabilimento Trocadero nella cittadina adriatica, l'anziano era appena entrato in acqua quando si è accasciato improvvisamente a terra, è stato subito portato a riva dal bagnino che ha avviato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari del 118, ma per l'83enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia e gli uomini della Capitaneria di Porto di Pescara. Ancora cronaca, è stato definito il più grande sequestro di droga negli ultimi anni in Abruzzo. La squadra mobile della questura di Pescara ha arrestato un corriere della droga, un 58enne cosovaro, che trasportava in auto 5 kg di cocaina. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato quasi un milione di euro. Vediamo i particolari nel servizio di Francesca Romanatesti. Un insospettabile viaggiava come un comune villeggiante con la macchina carica di valigie. Smailai Ramiz, 58 anni, cosovaro, è stato fermato all'uscita autostradale Pescara Ovest con 5 kg di cocaina. Un quantitativo enorme, valore approssimativo all'ingrosso 250 mila euro al dettaglio, avrebbe potuto fruttare un milione di euro. Un'operazione congiunta tra squadra mobile di Bari e quella di Pescara. La notizia è acquisita in maniera confidenziale dell'arrivo di un carico di stupefacenti, in arrivo dal Brennero, per fornire le piazze di Pescara e poi quelle pugliesi. Tre giorni di appostamento ai caselli per individuare il corriere tra sabato e lunedì. Lunedì, nel primo pomeriggio, poi l'arresto. Controllati i vari soggetti sospetti e compatibili con le informazioni ottenute a Bari. Attività di indagine è stata compresa da Bologna a Pescara. Una macchina con targa tedesca, l'auto del Kosovaro, proveniva proprio dal valico del Brennero, come specificato nella soffiata. La droga era nascosta sotto al pannello dell'alloggiamento della ruota di scorta. Si tratta di un sequestro record per l'Abruzzo. Gli investigatori ora stanno cercando di individuare i destinatari del carico. Si sospetta un'importante famiglia a Roma del Pescarese e si sta cercando di individuare la meta inserita nel TomTom, sequestrato al Kosovaro. L'uomo, residente ad Hannover, è incensurato e dopo l'arresto è stato condotto nel carcere di San Donato. Ancora cronaca la presenza di una valigia sospetta nel pomeriggio in una stradina laterale adiacente alla strada statale 16 Adriatica a Montesilvano, fatto scattare il protocollo di sicurezza con la conseguente chiusura di un tratto di 400 metri della strada statale in zona McDonald, nella parte nord del territorio comunale di Montesilvano. Imponente la presenza sul posto di carabinieri e vigili del fuoco è atteso anche l'arrivo degli artificieri della Polizia di Stato. La valigia, secondo le prime informazioni, ha un'etichetta aeroportuale della British Airways e si trova dinanzi un ristorante. Il traffico locale è stato deviato. Lasciamo la cronaca. Nessun danno è stato rilevato in Basso Molise a seguito del terremoto che ieri sera ha interessato la fascia costiera ai dicentri dell'Interland. Poco prima delle 22 l'epicentro è stato rilevato a Larino in provincia di Campobasso a 22 chilometri di profondità con una magnitudo 3.7. La scossa su Sultori è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche in Abruzzo, lungo la costa, fino a San Salvo e Vasto. Vediamo il servizio. La terra torna a tremare in Basso Molise. La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a Larino e una profondità di 21 chilometri avvenuta alle 21.52 di martedì 9 agosto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Tanta la paura nei centri del cratare sismico, a Termoli e sulla costa, ma il sisma si è sentito anche a Vasto, San Salvo e in altri comuni al confine con l'Abruzzo. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per chiedere informazioni, ma non sono arrivate richieste di intervento per eventuali danni. Io ero seduta su una poltrona e la poltrona si è mossa così, però non ho capito subito che era il terremoto, ho guardato il lampadario, non si muoveva, quindi è stato sussultorio, mentre una mia cugina ha sentito molto molto bene anche il boato che stava sopra. Ho sentito, c'è qualcosa che veniva a mancare, c'è come un silenzio totale. Nel frattempo sentivo, avevo appoggiato i piedi sul pavimento, un tremolio al pavimento, ma era un tremolio come se si alzava qualcosa. Era a casa, stavo per uscire, c'è stato tanto spavento. A Larino, il centro più popoloso colpito dal sisma di 14 anni fa, è stato attivato il piano di monitoraggio. Sono stati disposti sopralluoghi? Sia nell'immediatezza e nelle prime ore durante la sera e la notte di ieri, e con maggiore accuratezza parte l'ufficio tecnico in mattinata. Sono già stati visitati alcuni degli uffici pubblici, tra cui il tribunale, le scuole elementari, le scuole medie. Gli accertamenti proseguono anche sugli edifici privati, sia del centro storico che delle campagne. Non si rivelano particolari problematicità, però è un primo resoconto solo parziale. Una questione dunque di vulnerabilità dei fabbricati e distanza anche di tanti anni? Beh, quello sicuramente, specie per quelli che non sono stati riparati o che le riparazioni sono in corso d'opera e pertanto sono più vulnerabili. La scossa si è sentita in maniera forte, quindi stiamo molto attenti nel fare le verifiche per certificare se ci sono o meno dei danni. A distanza di tanto tempo di altre scosse rilevate in questi anni, restano i dubbi e i ritardi sul completamento della ricostruzione. Diversi cantieri sono ancora fermi e le imprese, anche a rischio chiusura, aspettano i pagamenti e chiedono alla Regione procedure più veloci per portare liquidità in cassa. Per molti imprenditori diventa in sostanza quasi impossibile anticipare le spese per i materiali e per la mano d'opera in mancanza di fondi tempestivi. Il risultato è quello di trovare impalcature montate ma vuote e gli operai che restano a casa. Ci sono dei paletti per quel che riguarda i lavori sull'autostrada A24 e A25 che garantiranno benefici per i comuni abruzzesi coinvolti. Nessun aumento però delle distanze fra i vari comuni e posizione in linea con quella del Ministero. Queste le rassicurazioni del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. I lavori sull'autostrada A24 e A25 porteranno solo benefici ai comuni coinvolti. È quanto afferma il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per spegnere anche le polemiche che si sono create attorno alle opere. Il Presidente rassicura ai comuni che non ci sarà nessun aumento di distanza rispetto alle situazioni attuali. Noi diciamo che l'aumento della tariffa non può superare il 2% di integrazione l'anno. Noi diciamo che i beni ambientali e idrici non possono essere lesi. Noi diciamo che va mantenuto l'esercizio autostradale nel corso di cantiere. Noi diciamo anche che non ci può essere nessun aumento di distanza rispetto all'attuale infrastruttura nei confronti dei paesi serviti dall'infrastruttura autostradale. Cioè tutti i comuni che oggi hanno accesso all'autostrada non devono subire un aumento di distanza con i lavori di rifacimento. Quali lavori? Quelli contemplati dalla norma, perché qui si sta mettendo in esecuzione la norma dello Stato che punta la messa in sicurezza. Noi dobbiamo sapere però che alla fine anche il numero degli anni di proroga che verranno concessi dovranno essere anni di proroga compatibili con la valutazione dell'Europa e compatibili con una tariffa di implementazione autostradale che sia compatibile con le esigenze dell'utenza. Secondo D'Alfonso le innovazioni porteranno soltanto benefici e la posizione della regione è pressoché simile a quella espressa dal Ministero. Dunque, le proposte che fa il soggetto gestore dal suo punto di vista, del soggetto gestore, sono tutte legittime. Dopodiché ci sono valutazioni che vengono fatte dal soggetto decidente che è il Ministero. E il Ministro e il Ministero da nove mesi rappresentano quali sono le condizioni di eseguibilità. C'è la norma che va naturalmente letta e compresa, c'è l'istruttoria che va fatta anche nei comuni dell'Europa e c'è anche quello che ha rappresentato Regione Abruzzo dal punto di vista delle quattro condizioni. Cambiamo pagina, cambia il sociale nella Regione Abruzzo. Ieri il Consiglio regionale ha infatti approvato il nuovo piano sociale finanziato tra il 2017 e il 2019 con oltre 200 milioni di euro. Alferredo Primante. Un cambiamento epocale atteso almeno da 17 anni. E' questo il commento dell'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco. Dopo il sì definitivo ieri del Consiglio regionale al nuovo piano sociale vengono ridisegnati gli ambiti territoriali sociali che si uniscono ai distretti sanitari. 24 i nuovi ambiti distrettuali sociali distribuiti su tutto il territorio e che faranno dialogare il mondo dei servizi sociali con quello della sanità. Le ASL insieme agli uffici di piano lavoreranno insieme perché i cittadini devono essere presi in carico nella loro complessità sociale e sanitaria. Ma sono diverse le novità introdotte dalla riforma che arriva al capolinea dopo 18 mesi di consultazioni e avvicina l'Abruzzo alle migliori esperienze italiane in materia toscana ed Emilia Romagna in testa. La coprogettazione diventerà realtà ed eviterà lo spezzettamento dei fondi a disposizione tra il 2017 e il 2019 circa 210 milioni di euro tra finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Inoltre viene introdotto il principio dell'accreditamento delle strutture di assistenza sociale così come avviene già per la sanità privata. Più controlli e professionalità degli operatori promette la SCLOCCO che auspica anche nuove opportunità di lavoro per i laureati nelle discipline sociali. Metteremo le regole in modo da, ripeto, sottolineare le competenze e le professionalità di tutti gli operatori sociali, parlo di psicologi, parlo di assistenti sociali, parlo di os, parlo di infermieri ma anche le strutture dovranno avere delle regole perché i nostri anziani, i nostri bambini, le nostre donne devono stare in luoghi adeguati. Adesso alla Regione spetterà il compito di emanare le linee guida attuative del piano Invece i comuni avranno 90 giorni di tempo per costruire i nuovi ambiti sociali e 150 giorni per scrivere i nuovi piani distrettuali sociali. Sicuramente abbiamo cambiato, quindi sicuramente abbiamo garantito, garantiremo i fondi e anzi ne garantiamo molti di più ma soprattutto abbiamo cambiato l'assetto, la programmazione. Provincia di Teramo, lontana dalla ripresa economica, la CGL Teramana lancia l'allarme dopo la lettura dei dati economici e occupazionali del 2015, servono interventi urgenti, dice il sindacato. È un quadro drammatico sia per quanto riguarda la capacità di creare ricchezze del territorio la ridotta quindi capacità del territorio di produrre reddito. I dati raccontano in maniera impietosa una provincia, quella di Teramo, in piena recessione economica con mille imprese in meno, poche start-up ed aziende innovative, un tasso di disoccupazione passato dal 5,5% del 2007 all'11,5% del 2015, un territorio che rappresentava l'avanguardia dell'imprenditoria regionale, ora segna il passo. Utilizzo massiccio della CIG ed esplosione del fenomeno dei voucher cresciuti del 53%, solo per citare alcuni fattori, stanno riducendo sempre di più il reddito dei lavoratori. Se a questo ci si aggiunge anche la pressione tributaria dei comuni, che nel 2015 ha toccato il 76,7% in provincia, record regionale, sia la dimensione della complessità del problema lavoro ed occupazione nel Teramano. Noi ci troviamo con una provincia dove i cittadini di questa provincia hanno fatica sempre più crescente a provare a conservare il proprio reddito, la propria occupazione, hanno una precarietà in alternativa che molto spesso è espressa dai voucher e nello stesso tempo c'è una tassazione locale che è la più alta del centro-sud. Accanto all'analisi della situazione attuale, la CGL di Teramo vuole dare anche le sue ricette per cercare di rilanciare il territorio e il tessuto economico, a partire da due parole magiche, ricerche ed innovazione che passano attraverso il connubio con l'università. Poi c'è tutto il tema delle politiche del lavoro e dei fondi del masterplan. Io di far sì che prima possibile vengano in qualche modo rese fruibili, utilizzabili le risorse e le opportunità che ci sono, mi riferisco a quelle del masterplan, mi riferisco a quella dell'area di crisi complessa, mi riferisco alla decisione sull'area di crisi semplice per quanto riguarda questo territorio e queste sono per provare comunque a conservare l'occupazione e il tessuto industriale che ancora rimane e che è importante. Noi da Teramo torniamo a Pescara perché si parla del nuovo piano di intervento per le aree di risulta della stazione ferroviaria. Questa mattina c'è stato un sopralluogo effettuato dal vice sindaco Enzo Del Vecchio che annuncia la conclusione dei lavori subito dopo Ferragosto. L'amministrazione comunale di Pescara raccoglie l'appello alla sicurezza lanciato da commercianti e cittadini che lamentano poca sicurezza nell'area di risulta. Area che di sera diventa scenario di presenze che poco fanno stare tranquilli, giovani e meno che magari chiuse le saracinesche escono con l'incasso della giornata e così è già pronto il piano che prevede l'installazione di fari ad alta potenza e di una postazione fissa di polizia municipale. In ordine diciamo così di priorità sono quelle di una presenza quasi sistematica quotidiana delle forze di polizia di Attiva e anche della Polfer per quanto riguarda l'individuazione di soggetti diciamo senza fissa dimora e per la polizia quotidiana di aree che vengono utilizzati per bivacchi o per nottamenti per dormire durante la notte. Abbiamo elaborato anche la presenza di un posto fisso di polizia all'interno della biglietteria che ormai diciamo è stata messa a gara per l'individuazione dei soggetti che lì devono svolgere la propria attività. Era già prevista la presenza anche di un punto fisso di Pescara Parcheggi e oggi abbiamo deciso anche di mettere la polizia municipale. I lavori sono già stati avviati e si prevede che l'operazione sarà portata a termine nei giorni successivi al 15 agosto. I lavori sono già in corso, sono stati fatti basamenti per tre nuove torri faro. Dopo ferragosto verranno alzate queste torri, ogni torre avrà quattro fari da mille watt ciascuno quindi una maggiore illuminazione di quell'area durante le ore notturne con sistema di telecamere per ulteriore sistema di sicurezza che si aggiunge a quella della presenza fisica della polizia municipale. Noi restiamo a Pescara perché si concluderà il prossimo 20 agosto con l'atteso concerto di Fiorella Mannoia all'Arena del Mare, la programmazione degli eventi legati al Coast Day, la manifestazione realizzata dal Comune di Pescara nell'ambito del progetto IPA Adriatic finanziato con un programma 2007-2013. Per quanto riguarda gli eventi ricordiamo che il concerto era programmato per il 24 luglio e poi fu rinviato a causa del maltempo. Quella del 20 agosto sarà una chiusura che servirà ancora una volta a sensibilizzare la comunità alla tutela del mare e dell'ambiente circostante ma riassumerà anche i contenuti della Due Giorni che ha radunato in città i partner italiani e stranieri del progetto e le associazioni ambientaliste che da sempre dedicano la propria attività a questo fondamentale elemento identitario cittadino. Appuntamento alle ore 22 con la proiezione di un video sul progetto, poi alle 22.30 ci sarà l'inizio del concerto di Fiorella Mannoia. E noi restiamo a Pescara perché il Pescara Calcio, grazie ad un accordo con la Camera di Commercio, avrà una clubhouse all'interno del porto turistico. L'accordo è stato siglato ieri presso il porto turistico di Pescara dal Presidente della Locale Camera di Commercio Daniele Becci e dal Presidente del Pescara Daniele Sebastiani poco prima della cerimonia di presentazione delle nuove divise da gioco della formazione Bianca Azzurra. Vediamo. Presidente Becci, da oggi il Pescara avrà anche la sua casa al porto turistico. Sì, abbiamo trovato questo accordo che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Avere un panorama così importante appunto come il campionato di calcio di Serie A, avere il Pescara Calcio, la sua location più prestigiosa qui presso il Marina di Pescara non può che renderci soddisfatti. Il tutto deve essere poi abbinato con questo progetto che abbiamo combinato appunto assieme alla Pescara Calcio che porta al centro due punti. Da una parte questa infrastruttura, il Marina di Pescara, gestita appunto dal Marina SRL e dall'altra parte una serie di tappe che seguiranno il Pescara con la comunicazione sulla tipicità dei nostri prodotti. Ecco, crediamo che questo binomio sia assolutamente un binomio vincente, tanto è vero che abbiamo chiamato la comunicazione a una scuola di Serie A, un territorio di Serie A. Presidente, la squadra cittadina di calcio nel massimo campionato rappresenta un'opportunità finanziaria, economica importante per tutto il territorio? In una parola, una valorizzazione. Ecco, oggi essere in un panorama così importante, se noi immaginiamo semplicemente che un quarto d'ora dopo la fine delle partite del campionato un trailer sulla partita va in Sud America, in Centro America, in Nord America, nella parte più ricca dell'Oriente, in tutta Europa, lei capisce bene quale potenza oggi ha raggiunto questo straordinario veicolo appunto che è il calcio. Siamo alla pagina degli eventi, tanto pubblico, grande entusiasmo e voglia di divertirsi ad Alba Adriatica, ieri sera è tornato il carnevale estivo per l'occasione nella città riverasca, sono arrivati carri allegorici da Abruzzo e anche dalle Marche. E se il martedì grasso capitasse nella bella stagione, ad Alba Adriatica succede da 23 anni, il lungomare si popola, la città diventa allegorica ed è qui che inizia la festa. E' stato un carnevale veramente all'insegna della gioia, del divertimento e sinora possiamo dire anche della civile convivenza. Io sono veramente felice ed orgogliosa che questo evento, che è il 23esimo per la città di Alba Adriatica, sia stato veramente un trionfo. Grazie anche all'organizzazione dell'associazione APAT, con la direzione artistica di Claudio Marastoni, che ha portato a questa nostra bella città per il suo sessantesimo compleanno anche degli importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Giulia Montanarini, Beppe Convertini, Sebastiano Somma, Giosquillo, che hanno animato questa serata ed effettivamente hanno creato veramente un'attenzione particolare su questo evento che è poi diventato a far parte della nostra storia ed è il clou veramente dell'evento degli eventi della stagione estiva di Alba Adriatica. Mi piace molto questa collaborazione che abbiamo avuto con la regione Marche, ma anche con altre cittadine dell'entroterra che hanno collaborato per poter quindi sfilare dal Badriatica. Una passeggiata notturna tra animali selvatici e storia e questo l'appuntamento con visita e concerto wild nella fortezza di Civitella del Tronto in provincia di Teramo. L'evento è in programma il prossimo 12 agosto. Storia, musica e falconeria, arti diverse che si intrecciano nella manifestazione visita e concerto wild, una notturna nel suggestivo scenario della fortezza di Civitella del Tronto, tra le più grandi e meglio conservate d'Europa. I partecipanti scortati da lupi ciecoslovacchi e circondati dalla pace notturni saranno guidati alla scoperta delle bellezze del forte che custodisce al suo interno anche un museo mostra dell'antica arte della falconeria. Inoltre per rendere ancora più speciale l'atmosfera ci sarà una mongolfiera che sosterà a 70 metri d'altezza proprio sulla fortezza. Le famose visite wild in fortezza con i rapaci e il falconiere si sposterà per la prima volta in un orario notturno per offrire le particolarità della fortezza durante l'ambito notturno. È molto importante prenotarsi perché i numeri per quello che riguarda la visita wild in notturna sono limitati per permettere a chiunque arriva in fortezza per fare questa visita di godere al massimo dell'esperienza notturna. C'è una mostra ormai da tre anni a Civitella del Tronto dove praticamente ci sta tutta la spiegazione sulla storia e la cultura dell'arte della falconeria che è un'arte millenaria e vive ormai da 6.000 anni. Le persone possono visitare la fortezza e guardare questa mostra sia quando ci sono gli animali presenti e perciò quando facciamo le passeggiate wild o anche quando comunque la fortezza è aperta perché è aperta al pubblico. Tutte le persone che vengono comunque rimangono veramente affascinate di questo mondo che ancora oggi sembra un mondo magico che comunque unisce l'uomo alla natura in maniera simbiotica e trasferisce delle emozioni uniche. Siamo la pagina dello sport, apriamo con il calcio per parlare del Pescara che ieri sera nell'ultima amichevole precampionato ha battuto allo stadio Aragona di Vasto la formazione locale con il risultato di 3 a 0. Tegola però per la squadra di Massimodo perché si è infortunato Nicastro che salterà quasi certamente la gara di sabato prossimo con il Frosinone nel terzo turno di Coppa Italia. Vediamo il servizio. Prosegue la marcia di avvicinamento dei Biancazzurri all'esordio di campionato. Ieri sera a Vasto dinanzi ad una bella cornice di pubblico i ragazzi di Oddo hanno superato i Biancorossi per 3 a 0 nell'ultima amichevole precampionato. Da sabato infatti si inizierà a fare sul serio con l'esordio in Coppa Italia con il Frosinone allo stadio Adriatico. Al cospetto degli Aragonesi i Biancazzurri scese in campo con qualche assenza hanno fatto vedere buone cose e mostrato anche una buona condizione fisica. Peccato per l'infortunio corso a Nicastro che dopo uno scontro di gioco è stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 19 minuti del primo tempo. L'ex stabiese unica punta centrale di ruolo in Coppa per la squalifica di Manai potrebbe saltare la sfida con i Ceociari. In evidenza ieri allo stadio Aragona il giovane Nando del Sole subentrato proprio a Nicastro è autore di una doppietta. Il primo gol segnato lo scadere del primo tempo dopo una bella azione corale della squadra e la seconda rete al 38esimo della ripresa con un bel tiro che non ha lasciato scampo al russo. Nel mezzo al sedicesimo della ripresa il gol di Cristante con crescenze lo stesso del Sole fra i migliori nella calda serata vastese. Ieri sera all'Aragona di Vasto era presente anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che abbiamo avvicinato i nostri microfoni. A proposito di arrivi, aveva detto il presidente, in settimana potrebbe arrivare qualche nuovo giocatore? Siamo ad ore? No, stiamo definendo alcune cose che riteniamo siano importanti per completare la squadra che è già di per sé una buona squadra e in questi giorni vedremo se sarà possibile, arriveranno in questi giorni altrimenti nella prossima settimana. Però stiamo lavorando per far sì che la squadra sia completa e possa partire per il campionato il meglio possibile. Per la difesa Ghiomber e Da Silva sono i giocatori comunque più vicini al Pescara? Sono tra i giocatori che stiamo vedendo, però vedremo perché tanto poi come diciamo un nome magari arrivano altre dieci squadre, allora ce le teniamo per noi queste cose e speriamo che nei prossimi giorni possiamo chiudere queste trattative in maniera tale da mettere la parola fine almeno al reparto difensivo. Quanto riguarda invece l'attacco, Trotta è il nome più gettonato, poi però c'è l'attaccante che potrebbe essere l'attaccante straniero del Pescara nel prossimo campionato? No, non c'è, come dice anche il mister, non ci sono i nomi che vanno in campo, ci sono giocatori validi che possono fare al caso nostro e stiamo cercando quelli. Ci saranno anche delle cessioni da qui alla fine del mercato? No, cessioni no, penso ci saranno delle uscite di qualcuno che deve andare a giocare perché chiaramente dopo diventiamo tanti. Bulevardi al Teramo? Bulevardi al Teramo si può fare, penso che nei prossimi giorni si chiuderà. E siamo proprio alla Lega Pro, è parlare proprio del Teramo cui faceva cenno il presidente Sebastiani perché è arrivata una fumata nera nell'incontro che c'è stato fra la società Biancorossa e Stefano Madio per il rinnovo del contratto del centrocampista. Nei prossimi giorni ci sarà un aggiornamento, ma ovviamente questa fumata nera fa pensare in vista proprio dell'inizio della stagione e la società Biancorossa che dunque potrebbe tornare sul mercato. Vediamo il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Niente accordo tra Stefano Madio e il Teramo rischia di calare il grande gelo. L'incontro di ieri non solo non ha partorito il tanto agognato rinnovo di contratto ma ha visto probabilmente le due parti allontanarsi. Sì, perché non c'è stato alcun avvicinamento a distanza di una settimana. Ieri pomeriggio il centrocampista romano in compagnia del suo procuratore Carlo Di Renzo ha incontrato i vertici del sudalizio Biancorosso. Presente anche il patron Campitelli insieme al direttore sportivo Fabio Lupe e al direttore generale Gianluca Scacchioli. La proposta di rinnovo del club sul solco di quanto già proposto e accettato da altri componenti della Rosa e che il giocatore non aveva preso in considerazione qualche tempo fa è stata riproposta senza alcun esito. Amadio, su cui comunque c'è ancora l'interesse della Tina di Vivarini. L'offerta non c'è mai stata, ma è anche vero che i nerazzurri aspettano di vedere quali saranno gli sviluppi della vicenda col Teramo prima di tentare l'affondo. Di fatto la posizione del centrocampista è chiara. Se il valore di mercato che ne dà il Teramo per lasciarlo partire lo pone tra i big della Rosa, anche il contratto deve essere sulla stessa linea d'onda. In serata, dopo l'incontro con Amadio e Di Renzo, super summit del Teramo, oltre al presidente e ai due direttori anche la presenza di Lamberto Zauli. La sensazione è che la dirigenza lo abbia voluto mettere al corrente e che probabilmente dovrà fare a meno di Amadio che, a meno di aggiornamenti previsti già oggi, sembra destinato a passare o una stagione in tribuna o più prevedibilmente a partire. A meno che oggi non cambi qualcosa, anche se alla distanza tra le parti non sembra lasciare spazio all'ottimismo. Allenamento pomeridiano per il Teramo di Lamberto Zauli in attesa dell'ufficialità. Oggi pomeriggio si è allenato con i bianco-rossi anche l'ormai ex pescarese Danilo Bulevardi, centrocampista di proprietà della società Bianca Azzurra, che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Aquila. Alla seduta non hanno invece partecipato Petrella, assente domenica scorsa nell'amichevole di Pineto e Ilari. Ancora alle prese con acciacchi di natura fisica che ne hanno finora condizionato la preparazione precampionato. Teramo che domani alle 18.30 affronterà a Morrodoro la compagine di casa che milita nel campionato regionale di eccellenza. E noi scendiamo in Serie D perché quella di oggi doveva essere la giornata della presentazione del nuovo organigramma societario del Chieti, ma c'è stata una sorpresa perché la conferenza doveva svolgersi allo stadio Angelini e la nuova proprietà ha trovato l'impianto chiuso. Conferenza che poi si è svolta in un locale adiacente lo stadio. Non sono mancate le sorprese. Vediamo. Il passaggio di quote è stato fatto soltanto nel momento in cui sono stato io a fremmare e a bloccarlo. Sai perché? Perché non era stata fatta la fiduzione e l'iscrizione. Perché allora io pensavo che così mi sarebbe stata incollata anche dopo tutti quanti i cosi che c'è da fare anche 31 mila e 500 vermi quali, vero? Sì. Più 18 mila erotte. Allora ho detto ho messo a vedere alla prova se succedeva dall'altra parte. E l'altra parte l'ha fatta per cui ha salvato. Lui gli chiedi da questa espressione che poi per qualcuno sia stata una cosa fatta bene e per qualcuno male. Questo è un altro discorso. Da quel modo in poi abbiamo parlato noi. sono stato dal notaglio Casini che è il mio abbiamo parlato, abbiamo fatto le carte è venuto un amministratore di quella come si chiama? Emilio Mancini come si chiama? Bianchi? Uba, qual'altro? Mancini Di Biasi Di Biasi che è lui l'amministratore unico perché è uno solo è un socio solo ha firmato e la cosa sta là. Lo devo firmare io? Allora da questo momento in poi da quel momento in poi noi siamo partiti con questa frase con questa frase loro hanno firmato e se io non firmo adesso e me ne ho andato? Eh ma per questo la sua intenzione qual è? L'intenzione mia è che qui mi ha creato problemi il comune mi ha creato problemi lo stadio mi è stato chiuso e mi ha creato problemi l'allenatore ha creato problemi a lui ha creato tutto lo staff tutto al chiedi perché io sono di passaggio faccio l'imprenditore ve lo ripeto non faccio il magnate faccio l'imprenditore come ha detto l'avvocato che ha un milione di euro l'avvocato o sta tranquillo sono cavoli mia se io ho un milione o quattro milioni oppure me lo compro me lo compro una persona al momento che entro al giardino dei calci però il discorso è questo è un altro perché questo ostracismo verso uno che è venuto e boffa il calcio è tutto per la seconda edizione del TG6 la terza alle 23 grazie per averci seguito buon proseguimento di serata grazie per aver guardato il video